Ciao a tutti ragazzi dal vostro Antonio Migliozzi e come avete potuto capire un poco dalla location e anche come avete potuto leggere dal titolo questo è un video molto breve semplicemente per darvi alcuni aggiornamenti e per augurarvi la fine di un anno 2021 un po' strano, un po' particolare e soprattutto augurarvi un buon 2022. Ovviamente ragazzi come molti di voi mi hanno chiesto comunque avete potuto capire che sono saltati un po' di programmi anche a partire dal video di domenica che purtroppo non c'è stato, ci sono stati un po' di problemini tecnici e personali ma comunque ragazzi non vi preoccupate sto bene tutto alla grande ovviamente vi voglio sempre tenere aggiornati per quanto riguarda il mio canale e un video questo qui che cancellerò quindi durerà soltanto per pochi giorni in effetti lo sto facendo in macchina molto velocemente e allora per quanto riguarda la storia uscirà domenica comunque sto facendo comunque altri video ho sempre delle idee belle in mente devo soltanto tagliare un poco, modificare qualche video e poi lo pubblicherò anche perché poi vi annuncio, questo vi do una notizia, spero per voi vi fa piacere continuerò questa serie di video anche per il mese di gennaio, queste storie ci saranno degli aggiornamenti molto importanti anche per quanto riguarda la parte sportiva quindi del campionato, del wrestling e altre cose quindi del calciomercato che arriveranno tante novità ci sarà la classifica che avevo già pensato di fare ve l'annuncio già quindi una top 20 in questo caso del 2021 le canzoni più belle che hanno caratterizzato quest'anno ci sarà un altro video che ho fatto un po' di tempo fa e che ho deciso di riportare che secondo me sarà molto simpatico ci sarà un'altra visita dal mio caro amico medico e non solo, tantissime altre novità ovviamente ragazzi, siccome voi, chi mi segue lo sa questo non è il mio vero lavoro quindi comunque ho il mio impegno, la mia vita quindi da portare avanti e soprattutto sono stato davvero, credetemi, impegnatissimo in questo periodo e quindi che cosa vi devo dire? vi chiedo scusa per questa assenza ma comunque ci sono ritornerò e anche se magari qualche video uscirà i primi dell'anno uscirà nei prossimi giorni state tranquilli, anche se magari faccio riferimento al 2021 però credetemi che non ho avuto proprio tempo in questo periodo comunque ragazzi, che dire? io mi invito, come sempre, a iscrivervi al canale e arriviamo magari, perché no? entro stasera, entro mezzanotte a festeggiare questi 100 iscritti è un obiettivo mio e poi, che cosa dire? mi fa piacere che comunque questi video anche di quest'anno vi siano piaciuti vi ringrazio anche per il supporto che mi avete dato in tutto questo anno ormai sono da marzo praticamente, da marzo 2020 che sono più attivo, o meglio, su YouTube e che per me è un grandissimo passatempo ma io comunque ci tengo comunque a ringraziarvi di cuore per questo mi raccomando, state sempre sintonizzati perché vi porterò tantissime novità e pianificherò anche in maniera un po' più diciamo, in maniera migliore i prossimi video non ci sono problemi e anzi, suggeritemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate magari quale video potrei fare in futuro qualche novità appunto per il 2022 che non vi preoccupate che ci saranno e poi ovviamente ci sarà anche qualche vlog qualcosa, tantissime novità bene, io detto questo vi mando come sempre un abbraccione un bacione anche se a distanza sperando davvero in un 2022 migliore più sereno, più tranquillo sotto tutti i punti di vista ma benissimo io vi mando un bacione ci si becca molto presto con il prossimo video tra domani e dopo domani uscirà soltanto questo breve video per augurarvi un buon 2022 dal vostro Antonio Migliozzi ciao